Beautylicious Delights, come lo conoscete oggi, è nato così, da un bisogno personale diventato una missione. Ciao, mi chiamo Rosalia e sono la fondatrice di Beautylicious Delights. Tutto è iniziato 15 anni fa con la mia personale ricerca di prodotti naturali per la cura della pelle e dei capelli. Ho quindi iniziato a sperimentare con diverse miscele, cercando di trovare la soluzione perfetta per curare il mio cuoio capelluto e per coprire i miei capelli bianchi in modo naturale e duraturo. E ha funzionato! I risultati sono stati così sorprendenti che ho deciso di condividere la mia esperienza con altre donne. All'inizio Beautylicious Delights era un piccolo progetto, ma grazie al vostro affetto e ai vostri feedback è cresciuto e si è evoluto, diventando una vera e propria community di donne che amano prendersi cura dei propri capelli in modo naturale. Insieme abbiamo esplorato il mondo delle erbe tintorie, abbiamo sperimentato, testato e creato una gamma completa di prodotti, dalle polveri di erbe tintorie ai trattamenti ayurvedici, per soddisfare ogni singola esigenza. Cosa trovi nel mio shop curavisoicappelli.it? Una gamma vasta delle migliori erbe tintorie, dalle più classiche alle più ricercate. Trattamenti di bellezza, sfruttando i benefici di tantissime polveri ayurvediche. Mix tintori pronti all'uso. Prodotti complementari come erbe lavanti, shampoo, balsami e oli, tutti formulati con ingredienti naturali e biologici. Gli accessori come gli asciugamani in bambù, pettini e spazzole in legno e cuffie in seta sono pensati per cocolare i tuoi capelli. Perché dovresti scegliere Beautylicious Delights? Ti elenco solo le prime motivazioni che mi vengono in mente, ma sentiti libera di aggiungerne altre nei commenti se ti va. Puoi usufruire della consulenza personalizzata per facilitarti nella scelta dei prodotti più adatti alle tue esigenze. Tutte le formule e i prodotti sono naturali e certificati, senza ingredienti aggressivi per il tuo fusto. Trovi solo materie prime di alta qualità provenienti da agricoltura biologica. Dietro ogni prodotto c'è la mia passione e la mia esperienza. Amo quello che faccio e voglio condividere questa passione con te. Entri a far parte di una community di donne appassionate di bellezza naturale con cui potrai condividere esperienze e consigli. Unisciti a noi e scopri il potere della natura. Ti aspetto!